Ti voglio come vicepresidente. Io, George Bush, voglio te. Che mi dici? La vicepresidenza non è che è una carica simbolica. Se mi dessi le deleghe per cose più banali. Amministrazione, esercito, energia, politica estera. Quando ottieni il potere, devi tenerlo stretto. Sempre. Christian Bale è... Vice, l'uomo nell'ombra. Stai diventando ogni giorno più spiantato. Dal 3 gennaio al cinema. Stai diventando ogni giorno.